Elisabeth vieni con me senti Elisabeth devo dirti una cosa di estrema importanza so che alla tua età dovresti pensare solo al gioco ma tu hai visto morire tua madre su quel rugo e i tuoi occhi sono ancora pieni di orrore Elisabeth io penso che se tu un giorno Elisabeth ho raccolto di nascosto le ceneri di tua madre ora lei riposa laggiù insieme al corpo di una donna trovata affogata sotto la cascata questo sarà il nostro segreto e tu dovrai tacerlo agli altri ecco adesso sai dove poter pregare tua madre invocarla nei tuoi momenti di maggiore sconforto Elisabeth mi senti hai capito hai capito hai capito hai capito